Si svolgerà domenica 27 ottobre a partire dalle ore 10 la prima edizione della festa provinciale di Azione Teramo. All'evento parteciperanno i dirigenti provinciali e regionali del partito oltre al leader nazionale Carlo Calenda. Un momento di riflessione e di confronto insieme a simpatizzanti, dirigenti, iscritti e gli esponenti di tutti gli altri partiti che interverranno. È la prima festa provinciale, sono molto contento grazie al segretario provinciale Alessio De Giglio e tutto il direttivo che ha messo in atto questo momento di confronto. Siamo contenti di annunciare che sarà presente il nostro leader nazionale Carlo Calenda e quindi dal tema l'evento sarà andare oltre il bipolarismo. Quindi un momento di riflessione insieme a tanti dirigenti e tanti simpatizzanti che saranno presenti qui a Teramo. L'evento dove si svolgerà? L'evento lo facciamo, dico tra virgolette purtroppo perché avremmo preferito farla a Teramo Centro ma non abbiamo il teatro, non abbiamo la sala profunzionale, non abbiamo luoghi dove poter mettere due o trecento persone e quindi la facciamo al ristorante Villa Bianca di Villa Tofo. Moderatore dell'appuntamento il giornalista Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro e conduttore televisivo. Un evento importantissimo perché ribadisce la presenza del partito sul territorio, noi siamo un partito che da tempo sta crescendo, sta includendo persone nuove e questo è un segnale nel momento storico in cui non si fanno più attività di partito, feste di partito. La situazione ripropone una conversazione col segretario nazionale su un tema, come diceva prima l'onorevole Sottanelli, importantissimo che poi è la roadmap di questo partito, cioè andare oltre quello che è il sistema bipolare. Quindi è una grande iniziativa, un grande evento, aspettiamo numerosi i cittadini e siamo convinti che il tema tracciato sarà un tema poi avvertito tantissimo.